Musica Musica Ecco, ora vi annuncio la mia decisione, è consuetudine che in occasione della Pasqua venga liberato un prigioniero, chi volete che io vi liberi? Verità di Gesù, verità di Gesù, verità di Gesù, verità di Gesù, per la Stalfino, il fattore volete dire che in Gesù, che volete che io ne faccia? Liberate Gesù! Procuratore, ricordatelo, se liberate quest'uomo non sarete più amico di Cesare! Procuratore, quest'uomo, se poco condannerete, vi porterà alla ruina! Ricordatevelo, pozzio Pilato! Procuratore, perché non parlo? Non senti quante accuse? Maledizione, difenditi, vuoi il gioco a pulire! Procuratore, il potere suo, si vede nella mente del Padre, che dice... Io sono il meno certo che pensatevi di Gesù, pensateci voi, che la pappa di vostui rigata su di noi e sui nostri figli! Grazie a tutti! Gesù! 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 Gesù!